Per le occasioni create possiamo dirlo a un punto che si aspetta? Credo che sì. Sono un po' rammaricato perché i ragazzi hanno fatto il massimo, nel senso che pali, traverse, occasioni create. E' ovvio che se ne va a tutti dentro, poi alla fine rischia anche di perdere. Alla fine, non so, adesso non l'ho visto dalla panchina se il calcio di rigore fosse il calore. Però so, queste sono partite che quando hai l'occasione per far gol, devi far gol. E le devi chiudere, perché altrimenti congiuntivo abbassare sempre la speranza, no? Però i ragazzi, per quanto riguarda l'impegno, hanno fatto tutto il massimo. E ho detto a loro del nuovo sbagliatoio che non è finito niente, perché dall'altra parte hanno fatto questo pareggio e ho tenuto conto che noi abbiamo una partita almeno. Quindi, ipoteticamente, siamo a due punti, no? La partita è importante, comincia ad essere il derby di sabato. Ci prepariamo bene, perché io sono convinto che questa squadra se la batterà a una pari, con tutti. Ecco, l'1-1 tra Chiedi e Caguila, come ha detto anche lei, è un geniale positivo. Può essere visto anche, però, come risultato che in caso di vittoria oggi potrebbe essere anche rammarico. In caso di vittoria noi, matematicamente, eravamo i primi, anche di fatto. Però il rammarico, come hai detto tu, è ancora più grande. Perché, ripeto, secondo me, per come lavorano i ragazzi, per come si impegnano, per quello che ci mettono durante la settimana, questa vittoria l'avrebbero meritata. Io gli ho detto loro di continuare, perché stiamo lavorando bene, ci manca qualcosina. Dobbiamo cercare di trovare quella alchimia giusta che ci permette poi di essere veramente una squadra forte. Però ci dobbiamo credere. Io penso che tanti ragazzi, secondo me, non credono nelle qualità che hanno. Bisogna spronarli a fare ancora meglio perché non lo possono fare. Questa è una risposta che era anche nella ripresa con i campi. Vincenzi è stato bene in partita, in Virginia, ma più blanco. Noi abbiamo fatto, non so se avete notato, noi siamo partiti con 5 colori che ho in campo. Perché non lo nota nessuno, no? 2003, 2002, 2002, 2000. Ma noi abbiamo fatto questa scelta proprio perché poi in panchina, in portato di Vigilio, Blanco, tutti quelli che sono entrati sono entrati tutti bene. Ma tu quando fai queste scelta, poi ce l'hai queste costituzione. Come è successo poi con l'angolano, no? Al secondo tempo, eravamo partiti in una certa maniera. Abbiamo messo dentro i ragazzi, ci hanno dato quel qualcosa in più. Oggi, devo dire che i ragazzi hanno fatto bene. Alla fine erano stremati perché oggi è anche il primo caldo un po'. Però, devo dire che poi ti è entrato, è entrato bene in partita e non l'hanno fatto appena ancora dove io. Ripeto, io sono soddisfatto della squadra. E poi siamo rammaricati, perché magari con un pizzico, in buona sorte dobbiamo stare a fare altri conti. Però, ripeto, alla squadra, l'autentità di Don Lago, anche al presidente stesso, con il presidente abbiamo detto che non bisogna manare perché, ipoteticamente, siamo a due punti. Quindi la partita importantissima è questa di sabato all'Aquila, che ce la andremo a giocare.